buongiorno ragazzi stiamo ancora parlando di piano inclinato e in questo video vedremo la dimostrazione della formula che abbiamo visto nei due video precedenti e che abbiamo già imparato ad usare buona visione come già vi ho anticipato in questo video dimostrerò geometricamente la formula del piano inclinato che abbiamo visto e usato nei due video precedenti la formula che vogliamo dimostrare pi parallelo cioè la componente lungo il piano inclinato della forza peso che è uguale alla forza peso per l'altezza del piano inclinato fratto la lunghezza del piano inclinato vediamo nel disegno questa è l'altezza del piano inclinato il nostro segmento c a c b e l la lunghezza del piano inclinato la forza peso che la pensiamo nel punto di punto materiale dove si trova il nostro oggetto la componente pi parallela è la componente del peso lungo il piano inclinato la componente viene equilibrata dalla forza equilibrante che è ovviamente uguale e contraria e punta verso il punto c invece abbiamo anche la componente pi perpendicolare che è la componente perpendicolare al piano inclinato componente sempre della forza peso che è equilibrata dalla reazione vincolare del piano inclinato sull'oggetto che è ovviamente perpendicolare al piano inclinato e rivolta dalla parte opposta col verso opposto a pi perpendicolare queste ultime due forze non servono nella nostra dimostrazione per la dimostrazione consideriamo i due triangoli a b e c che è il nostro piano inclinato e il triangolo d k e che è formato dal vettore peso e dalle sue due componenti pi parallelo e pi perpendicolare nel disegno quindi abbiamo di e k questo triangolino e a b e c che invece è il triangolo che corrisponde al piano inclinato questi due triangoli io voglio dimostrare che sono simili infatti come dimostro questo hanno due angoli congruenti l'angolo c a b che è congruente all'angolo d e k sono due angoli retti per costruzione andiamo a evidenziarli sono questo azzurro e quest'altro questi due sono due angoli retti inoltre hanno congruenti altri due angoli che sono a c b l'angolo là in alto in c e l'angolo k d e che nel disegno ho segnato con la lettera gamma questi angoli sono corrispondenti formati da rette parallele che sono a c e k d tagliate dalla trasversale b c del piano inclinato sono questi due gli angoli queste sono le due rette parallele tagliate da quest'unica trasversale li coloriamo di verde sono l'altra coppia di angoli uguali a questo punto possiamo dire che i triangoli sono simili quindi se i triangoli sono simili hanno lati in proporzione e soprattutto anche gli altri due angoli sono uguali perché la somma degli angoli interni deve dare 180 quindi l'angolo c b a è congruente all'angolo d k e che chiamiamo alfa e andiamo a colorare nel disegno di rosso e anche questo è molto importante ora la seconda parte della dimostrazione la prima era dimostrare che quei due triangoli erano simili è quella di tener conto della similitudine e creare questa proporzione che ci porterà alla formula che è la nostra tesi ricopio qua il disegno quindi tenuto conto che i lati opposti ad angoli congruenti sono in proporzione mi costruisco questa proporzione b c sta ad ac come di k sta a die guardiamolo nel disegno b c che è l'ipotenusa sta all'altezza di questo triangolo come l'ipotenusa del triangolo di k e sta al cateto piccolo scriviamolo in un altro colore a c e di e e quindi b c è l nel nostro disegno di k è p a c è h e di e è proprio la componente parallela della forza peso p parallelo poiché siamo in una proporzione sappiamo anche che il prodotto degli estremi è uguale al prodotto dei medi quindi posso riscriverla come p parallelo per l uguale ad h per peso e da qui posso ricavare la nostra tesi p parallelo è uguale a p forza peso per la frazione h su l questa è la nostra tesi prima di lasciarci ragazzi facciamo un'osservazione se si usano le formule goniometriche possiamo anche ricavare un'altra dimostrazione considerando il triangolo di e k il seno di alfa lo posso scrivere come p parallelo fratto p quindi p parallelo non è altro che p per il seno di alfa posso anche scrivere il coseno di alfa come la frazione p perpendicolare fratto p quindi il nostro p perpendicolare è uguale a p per il coseno di alfa a questo punto posso arrivare alla nostra tesi considerando anche il triangolo quello grosso il triangolo abc e usando sempre le formule della goniometria seno di alfa è uguale al rapporto ca fratto bc quindi il nostro ca è h bc è l questa quantità che corrisponde al seno di alfa posso sostituirla nella formula di prima al posto di seno di alfa ottenendo quindi proprio la nostra tesi perché ottengo che p parallelo uguale a p per invece che seno di alfa metto h su l e da qui abbiamo terminato riottenendo la tesi spero che sia tutto chiaro ragazzi nel prossimo video parleremo di attrito attrito radente attrito solvente e attrito viscoso continuate a seguirmi intanto vi auguro buona fisica